Settimana dal 9 al 15 novembre 2020, di Silvia Rubino Cizzo, amate anime danzanti, ben trovate. Il cielo prevede moti interessanti per questa settimana, martedì Mercurio tornerà in Scorpione, aggiungendosi al Sole, sabato sarà la volta di Marte, che riprende il suo moto diretto, e subito dopo avremo l'ultima superluna nuova dell'anno, con la luna che arriva anch'essa nello Scorpione, le energie degli oracoli che ci accompagneranno in questi giorni sono quelle del coyote, da Mystical Shaman Oracle, e l'iniziazione, da Work Your Light, il coyote e il sacro imbroglione, che interviene quando siamo troppo seri riguardo alle cose della nostra vita, con i suoi ostacoli inaspettati e le deviazioni di percorso quando credevamo di essere ad un passo dal traguardo, ma il suo non è mai un dispetto gratuito nei nostri confronti, è piuttosto un liberarci da desideri che non sono in linea con il nostro massimo bene e con cui ci ossessioniamo, e se questo dovesse accadere, cerchiamo di riderne, di prendere le cose con più leggerezza, di guardarle da una prospettiva diversa, spesso preghiamo per qualcosa, mettiamo in moto le energie perché si avveri, e il coyote arriva a mettere alla prova la nostra fede, facendoci sentire confusi e spaesati, senza una guida che ci conduca verso il punto che vorremmo raggiungere, perché, perché il compito del coyote è farci rendere conto se siamo pronti o meno per ottenere quello che abbiamo chiesto, magari scopriremo, grazie al suo ululato nel buio del cielo senza luna, che non tutto è oro ciò che luccica e presto potremo ringraziare perché il nostro desiderio non è stato esaudito, per quanto fortemente lo volessimo, quanto spesso ci ostiniamo ad aggrapparci al come e quando dovrebbero diventare realtà i nostri desideri, anche passando sopra il libero arbitrio altrui, facendo spazio a qualcosa di meglio, non sempre rendersene conto, però, è un processo che si metabolizza in modo pacifico, anzi, spesso è doloroso, se impatta fortemente sul nostro mondo emotivo, e perché ci troviamo al cospetto di un rito di passaggio, e la possibilità di superare quella soglia che ci introduce ad un nuovo livello evolutivo, implica la nostra disponibilità ad affrontare la paura della perdita, al fine di ottenere un nuovo modo di essere, un nuovo livello di sicurezza, profondità, significato, ma è attraverso l'apparente difficoltà che il nostro cuore si apre, e il nostro spirito è invitato a farsi strada in esso, intraprendiamo così il viaggio sacro diventando sempre più chi siamo e per cosa siamo venuti, assecondiamo quel percorso a spirale e non lineare che caratterizza l'esperienza dell'evoluzione umana, senza cedere allo sconforto ma ricordando che, anche se ci sentiamo totalmente sulla strada sbagliata, presto scopriremo che mai lo è, e che siamo sempre guidati e sostenuti, un abbraccio infinito, Silvia